E fatemi un favore, alzatevi tutti per accogliere il pastore John che ci predica stamattina. E il pastore John che ci predica stamattina. Possiamo pregare? E' un gran privilegio per noi di essere ai tuoi piedi. Siccome tu hai scelto di farti conoscere a noi, è per questo che tu ci hai permesso di venire ancora davanti a te. Per la forza e la conoscenza dell'uomo, l'uomo non può mai conoscerti. E' per questo che noi ci umiliamo davanti a te, così che tu ci possa istruire nelle tue vie e insegnarci. Siamo uomini pieni di limite. Perdonaci e fatti conoscere a noi questa mattina. Benedici le nostre anime stamattina. Ministri ai nostri desideri del cuore. Provvedi ai bisogni del tuo popolo. E che salvezza sia la nostra porzione. Portaci ancora a te stesso. Consola il cuore spezzato. Guarisci le nostre malattie e infernità. E che il nome del Signore Gesù Cristo sia soltanto lodato in mezzo a noi. Spirito Santo, fai la tua volontà. Nel nome potente che preghiamo. Amen. Potete dare un applauso a Gesù? Grazie tanto, potete sedervi. Amen. Il Signore vi benedica di essere qui. Il conto del nostro Vescovo, che ora non è con noi. Vi diamo tutti quanti benvenuti nella presenza del Signore un'altra volta. E vi chiediamo di sentirvi a casa. E soprattutto la famiglia che è venuta a stare con l'anziano Daniel. Vi diamo benvenuti. E diciamo che il Signore vi benedica di essere venuti. E preghiamo che il Signore Dio ogni potente possa ministrare anche a voi. Quindi di nuovo siete benvenuti. Come ha detto l'anziano Alfonso, stamattina abbiamo due cose da fare. La prima cosa è di sentire dal Signore Dio ogni potente mentre Lui ci prepara per incontrare la venuta del Signore Gesù Cristo. e secondo per benedire il Suo Santo Nome per la bellissima anima che Lui ha dato a noi. Amen. Dunque, vorrei che andiamo insieme mentre prendiamo la nostra Bibbia e sono così tanto privilegiato e benedico il nome del Signore per essere davanti a voi questa mattina nella posizione del nostro Vescovo per portare la parola del Signore e c'è una cosa che non so se alcuni di noi ce ne siamo resi conto. Questa cosa potrebbe essere nella nostra chiesa, nella nostra città, posto di lavoro, dovunque. Quando non c'è la guida e sei chiamato per rappresentarlo potresti pensare che il Suo lavoro è facile. Questo succede in tutti i momenti, ma sapete perché? Prima che Lui se ne va Lui prepara e si assicura che la persona che verrà a rappresentarlo non farà fatica come Lui fa fatica. Quindi potresti pensare che il lavoro di questo uomo è così tanto facile ma potresti non sapere ciò che è successo prima che tu sei venuto. E quindi io ringrazio Dio per la vita del nostro Vescovo per l'opera meravigliosa che Lui sta facendo in questa casa il cibo che mangiamo possiamo testimoniare su questo e la paternità il Padre che il Signore possa venirlo. Ora prendiamo le nostre Bibbie e ci spostiamo assieme Matteo 13 verso 24 stiamo parlando della raccolta la raccolta la raccolta la mietitura chiunque pianta ha un obiettivo è quello di raccogliere dopo il lavoro duro la speranza di ogni coltivatore è il giorno della raccolta è lì che riceverà la ricompensa della sua fatica quando fallisce la raccolta il coltivatore è nei guai perché ha lavorato in vano chiunque pianta vive in speranza di raccogliere chiunque investe ha un obiettivo quello di moltiplicazione e le scritture dicono finché il granello non cade nel terreno e non muore rimane da solo ma quando cade e muore dà frutti in abbondanza il coltivatore metterà l'unico un seme che ha invece di mangiarlo lo pianta per una speranza in comune cioè moltiplicazione chiunque pianta ha la speranza di avere moltiplicazione quando il seme cade nel terreno e muore dà tanti frutti questo era il Signore Gesù che parlava della sua morte quindi la morte la morte del Signore Gesù Cristo era un seme caduto in terra e che ha portato tanti Cristi dunque Matteo capitolo 13 versetto 24 versetto 24 la raccolta another parable he put forth to them saying the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field but when man slept his enemy came and sowed and sowed terrors among the wheat and went his way but when the grain had sprout and produced crop then the owner produced crop then the terrace also appeared so the servants of the owner came and said to him Sir did you not sow good seed in your field how then does it have terrors he said to them an enemy has done this the servant said to him do you want us then to go and gather them up but he said no lest while you gather up the terrace you also uproot the wheat with them let both grow together until the harvest and at the time of the harvest I will say to the reapers first gather together the terrace and bind them in bundles to bend them but gather the wheat into my bands amen amen and then I read in Italian from Matthew chapter 13 verse 24 and it says he proposed to them another parabola saying the regno of the heaven can be compared to a man who had seminated a good seed in his camp but while the men dorm came the his enemy and seminated a zizzan in me in al grano e se ne andò quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto allora apparve anche la zizzania e i servi del padrone di casa vennero a dirgli signore non avevi seminato buon seme nel tuo campo come mai dunque c'è della zizzania e gli disse loro un nemico ha fatto questo i servi gli dissero voi che andiamo a coglierla ma egli rispose no affinché cogliendo la zizzania non radichiate insieme ad essa anche il grano lasciate che tutti e due crescono crescano insieme fino alla mietitura e al tempo della mietitura dirò ai mietitori cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla ma il grano raccoglietelo nel mio granaio amén amén questa è una delle parabole che il signore ha dato spiegando come è fatto il regno di Dio e il signore disse un buon uomo è andato a seminare un seme e dopo che lui se ne è andato il nemico è venuto a seminare zizzania un altro seme diverso che assomiglia al seme giusto ora le zizzanie assomigliano al grano nella sua prima fase ma è velenosa e quindi per via di questo nel tempo romano era vietato a seminare delle zizzanie nel campo di qualcuno perché è come avvelenare qualcuno perché quel seme assomiglia al grano ma non è grano anzi è anche un veleno quindi era proibito era un crimine se uno faceva così e Gesù parlava del regno di Dio e disse un uomo ha seminato un buon seme e quando lui se ne è andato è venuto il nemico e ha seminato anche lui ma in quel tempo ha seminato un seme che contamina con un motivo comune cioè di distrarre ciò che il buon uomo voleva fare quindi se noi guardiamo l'interpretazione che il Signore Gesù ha dato lui ha detto che colui che ha seminato il buon seme è il Signore Gesù Cristo e il campo è il mondo il seme il buon seme sono i figli di Dio e i seme cattivi sono i figli del diavolo colui che ha seminato i semi cattivi è il diavolo ora arriviamo al punto il Signore disse quando l'uomo se ne andò venne il nemico e ha piantato anche il suo che assomiglia esattamente come quello giusto inganno pian piano ogni volta Dio separa certe persone per uno scopo il diavolo trova la sua possibilità di subentrare così che possa dare confusione al piano di Dio guardiamo nel tempo di Noè la Bibbia dice che Dio era dispiaciuto di avere creato l'uomo e allora ha cancellato l'uomo dalla faccia della terra lasciando solo una famiglia e appena dopo questo è venuto anche il nemico per seminare i semi cattivi come Am ha visto la nudità del padre e ha preso in giro il suo padre e il padre lo ha maledetto ora arriviamo anche nel tempo di Lot quando Dio ha visto la malvagità di Sodoma e Gomorra Dio è venuto distruggendo le città salvando una famiglia Lot e la sua famiglia quando Lot e la sua famiglia sono andati è venuto ancora il nemico e ha seminato altre zizzanie le figlie di Lot sono andate a letto con il padre ora Gesù ne aveva dodici e da questi dodici e che erano assidui e fedeli il diavolo ha trovato la sua via dentro di loro e prendendo uno ora quando guardiamo questi due avvenimenti Lot e Noè parlano del piano perfetto di redenzione come Dio vuole redimere umanità ora cristianità la sofferenza del Signore Gesù sulla croce tutta riguarda salvezza della umanità e la terra quindi questi due avvenimenti era l'anticipata della redenzione che Gesù Cristo stava per portare qui Gesù Cristo venendo sta parlando del contadino coltivatore che ha seminato poi il nemico ha trovato la sua possibilità di subentrare ma quando i servi del maestro quando hanno visto loro sono andati dai loro padroni e hanno detto tu non hai seminato il buon seme perché allora vediamo questa malvagità e Gesù disse colui che ha seminato il buon seme è il figlio di Dio il Signore Gesù i buoni semi sono i figli di Dio i servi del padrone sono gli angeli di Dio e gli angeli vengono dal Signore Gesù Cristo e dissero ma tu non sei morto per salvare umanità allora perché vediamo queste malvagità e gli angeli dissero Signore permettici che noi possiamo andare ad annientare tutti e il Signore disse no 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 chiunque semina aspetta la raccolta e ogni coltivatore raccoglie il frutto ma non le dizanie quindi non vi preoccupate arriverà il tempo per raccogliere il frutto il Signore il Signore ha seminato il buon seme il diavolo ha piantato la malvagità e gli angeli del Signore erano così affrettati dicendo lascia che noi andiamo a eliminare la malvagità dagli uomini ma il Signore non ha permesso questo perché l'opportunità deve essere data a tutti per fare frutti il motivo per cui ora vediamo la malvagità dovunque nella chiesa nel lavoro nelle scuole dovunque è perché il Signore è lento a ira lui da opportunità a tutti gli esseri umani per fare buon frutto prima che arrivano i frutti assomigliano al grano originale ora guarderemo il frutto ma prima di questo tutti gli esseri umani sono uguali forse io non sono un ladro ma ho ciò che si chiama la debolezza degli uomini da qualche parte forse vediamo quella cosa come la prostituzione vediamo quella in prostituzione ma noi non siamo prostitute ma abbiamo un'altra debolezza degli uomini e per questo motivo se il Signore dovesse permettere agli angeli di venire a distruggere il male lui eliminerà tutta l'umanità e quindi lui dice aspettate e che loro fanno dei frutti e al tempo della raccolta noi riconosceremo le dizagne della vera pianta che abbiamo piantato quindi il Signore è tollerante alla nostra debolezza per un motivo comune e tutti uomini possano avere la possibilità di fare buon frutto il frutto le scritture dicono questo Giovanni 12-24 dice finché il granello non cade in terra e non muore rimane singolo ma quando cade e muore porta tanti frutti e il Signore Gesù Cristo è caduto ed è morto così e che possa fare nascere noi i figli di Dio e che siamo nati di nuovo quando un uomo viene in Cristo Gesù e lo confessa come il suo Signore Salvatore lo chiamiamo nato di nuovo e durante le scuole bibliche abbiamo imparato che la nuova nascita è il cambiamento interiore e che succede alle persone che vengono alla salvezza quelli che confessano il Signore Gesù come il loro Signore e Salvatore sono le persone che sono venute alla salvezza e il cambiamento che succede dopo è ciò che si chiama la nuova nascita questo è il frutto che Lui si aspetta da noi tutti gli uomini sono uguali ci assomigliamo in carattere e atteggiamenti i desideri il gusto abbiamo un gusto in comune come uomini ma quando uno è nato da Cristo si aspetta frutto da Lui e quando tu rifiuti di fare frutti non ci sarà mai differenza tra te e la zizzania l'anima del nemico gli angeli gli editori quando vengono a raccogliere non guarderanno alla bellezza non guarderanno l'origine e il colore gli angeli cercheranno il frutto e se non trovano nessun frutto su di te anche se è rinato di nuovo ma siccome tu non hai mostrato il frutto del ravvedimento sarai considerato come delle zanie anche se il Signore ti ha fatto nascere alcuni di noi siamo nati da anni un anno due anni tre anni quindici anni fa ma non possiamo distinguere la frutta dalla frutta del terreno ma non possiamo differenziare i nostri frutti dal frutto delle zanie ciò che ci rende i figli di Dio ciò che ci rende il grano giusto è la tipologia dei frutti che noi portiamo e se tu rifiuti di fare frutti non sei più utile non sei più utile il padre forse potresti essere già essere piantato dal contadino ma rifiutando di fare frutti sarai considerato come una zizzagna quanti di noi essendo coltivatori arrivando il tempo della raccolta andando nel campo per raccogliere vedendo che c'è una pianta di mais che non ha nessun frutto e taglierà questa pianta senza frutto portandola a casa no non lo farai perché l'obiettivo del coltivatore è di avere frutto e non la zizzagna e ciò che il Signore si aspetta da noi è il frutto da noi il cambiamento che succede dopo aver confessato il Signore Gesù non c'è mai stato nessun cambiamento nella tua vita dopo che hai confessato il Signore allora stai attento potresti essere lasciato dietro l'arbezzagna l'erbaccia è stata piantata dal diavolo per distrarre il popolo per confondere i mietitori per avvelenare ciò che il buon uomo ha piantato ma il Signore disse io non mi affretterò per giudicare il giudizio è stato riservato per il tempo stabilito come tutti quanti noi sappiamo e sta arrivando un giorno il Signore Cristo Gesù tornerà per il frutto il rapimento e il rapimento prenderà luogo e solamente quelli che hanno fatto frutto saranno rapiti sono gli angeli che staranno a raccogliere quindi tu non hai niente da fare in questo per dire che io avrò la possibilità di e quindi soltanto ti devi fare conoscere identificarti come il frutto allora sarai raccolto la sofferenza del Signore Gesù sulla croce è per un solo scopo e che lui possa redimere i residui degli uomini prima che arriva il giudizio del Signore sulla terra e lo scopo del rapimento l'avvenuta del Signore Gesù e di radunare salvare i cristiani prima che arriva l'ira di Dio contro il diavolo che ha seminato le dizanie sul campo quando Dio ha creato uomini prima della caduta di Adamo ogni cosa era perfetta fino a quando il malvagio ha seminato le dizanie nella vita degli uomini e se tu dovessi essere il coltivatore e che qualcuno trova la possibilità di seminare le dizanie così che tu non puoi raccogliere niente quale sarà la tua azione l'ira del Signore non è contro uomini ma è contro l'antico serpente il dragone antico è per questo che il Signore sta arrivando e siccome la sua ira non è contro di noi lui ha disegnato ha pianificato e che lui possa fare la missione di salvataggio sulla terra prima di quel giorno è per questo che Cristo ha sofferto sulla croce e che chiunque crede in lui non perisca come dice la scrittura ma avrà la vita eterna questa è la ragione dell'avvenuto del Signore Gesù Cristo questo è il motivo del rapimento il motivo del rapimento così che il Signore avrà la sua via per distruggere la terra e salvare la terra quello è il motivo del rapimento nel tempo di Noè quando il Signore si è ravveduto si è pentito di aver creato l'uomo Signore ha salvato Noè la sua famiglia e ha distrutto tutti gli abitanti della terra e siccome dopo quella redenzione c'erano gli uomini sulla terra è venuto il nemico ancora seminare delle dizanie ma a questo tempo il piano della salvezza è completato Cristo è morto sulla croce quindi il grano sarà raccolto e sarà portato via dove non si può mai non si possono mai essere contaminati poi l'ira del Signore verrà sugli abitanti della terra per via di ciò che il malvagio ha fatto e il mio punto di discussione stamattina le zizzanie sanno la loro destinazione perché loro sanno che non sono utili al maestro cosa ne diciamo del grano i semi che il Signore lui stesso ha piantato ma non hanno fatto del frutto noi che ci siamo radunati qui siamo tutti credenti la gente che ha creduto nel Signore Gesù Cristo la tribolazione non sono fatte per noi siamo chiamati per essere parte del rapimento lo Signore ti ha piantato sei salvato tramite il nome del Signore Gesù Cristo ma se noi rifiutiamo di fare frutto non saremo utili ai mietitori non possono neanche riconoscere che noi eravamo nati di nuovo tre anni fa il tuo frutto è ciò che si aspetta il tuo frutto è ciò di cui c'è bisogno l'assomiglianza di Cristo Gesù in te dopo essere nato di nuovo è ciò che importa sei nato di nuovo e dopodiché cosa è stato il cambiamento nella tua vita i cambiamenti cambiando dalla natura comune dell'uomo la natura di uomo e venendo come Cristo questo è il frutto che gli angeli verranno a raccogliere e quindi se noi non abbiamo questo frutto qualunque cosa noi faremo nella nostra vita oppure nella Chiesa non sarà utile al Signore ci deve essere cambiamento dal giorno in cui abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo fino ad ora davanti a Cristo come vivevi la tua vita prima di conoscere Cristo come vivevi la tua vita ora ora che lo hai conosciuto come vivi la tua vita c'è stato qualche cambiamento oppure le cose sono come erano ma la paura è che anche se siamo nati di nuovo ma rifiutando di vivere come Cristo nel giorno di rapimento potremmo essere lasciati dietro Gesù il Signore ha fatto tanto e ne sta facendo tanto e che potrebbe qualificarci per essere rapiti noi non meritiamo siamo uomini assomigliamo alle zizzagne le erbacce assomigliamo a loro l'unica cosa e che ci può qualificare è la tipologia del frutto che noi porteremo e se noi possiamo fare i frutti nella somiglianza di Cristo Gesù allora saremo raccolti ma se noi non riusciamo a fare dei frutti allora saremo considerati come se non avessimo mai conosciuto Cristo lo scopo della raccolta è questo Daniele capitolo da versetto 13 e 14 Daniele capitolo 7 da verso 13 e 14 13 15 15 15 16 18 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 E quindi Daniele capitolo 7 da versetto 13 a 14 dice Egli giunse fino al veliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. E il suo dominio è un dominio eterno e non passerà. E il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Ora questo è il regno del Signore Gesù Cristo e che la Bibbia ne ha parlato tanto. Il motivo per cui ci deve essere rapimento è che Cristo Gesù deve pulire la terra per far stabilire il suo regno. Il motivo per cui ci deve essere rapimento è che Cristo Gesù deve pulire la terra per far stabilire il suo regno. Il motivo per cui ci deve essere rapimento è che ci sta arrivando una grande tribolazione dove la Bibbia dice che un terzo della popolazione del mondo sarà distrutta in un solo giorno. Sarà insopportabile per gli uomini, specialmente per gli uomini, specialmente per quelli che invocano il nome del Signore. Per questa ragione, la Chiesa deve essere rapita prima di quel giorno terribile. E la Chiesa che vive nella somiglianza del Signore Gesù, che ha fatto del frutto, deve essere portata via. Prima che l'ira di Dio viene. Ora guardiamo il caso di Enoch. Cosa dice la scrittura? L'uomo ha camminato con Dio e non è più stato, non ci fu. È stato rapito. E che lui rappresenta la Chiesa. L'età della Chiesa. Prima della calamità, il Signore prenderà i Suoi. Nel caso di Noè, e che era salvato, in mezzo alla grande tribolazione, è per i Giudei. Il Signore, il Signore lui stesso, costruirà un'arca per salvare loro in quella grande tribolazione. Ma noi, la Chiesa Gentile, è il caso di Enoch. Servi il Signore e sarai preso, portato via prima di quel giorno. E questo è serio. Perché o che siamo pronti, o non siamo pronti. Il Re dei Re, deve venire sulla terra e regnare sulla terra. E lui pulirà, farà pulizia sulla terra prima di fare questo. E le scritture dicono, La terra e ogni cosa è vivendo in grande, 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 come lo dico? La terra e tutto è vivendo in grande aspettazione che la terra sarà ridotta dalla casa dell'evo. E che la terra e ogni cosa sulla terra sta vivendo in una grande aspettativa, aspettando che la terra e ogni cosa sarà ridenta. E il rapimento è che uno dei processi della ridenzione della terra la Chiesa deve essere presa prima che arriva la calamità sulla terra. E quando guardiamo in giro i giornali, l'economia, le guerre e ogni cosa intorno a noi ci insegnano e che il tempo è arrivato che il popolo di Dio sarà raccolto. Sapete, il rapimento non è la fine della terra, ma è l'inizio dei guai sulla terra. Ma il Signore non vuole vedere la Chiesa gentile in quel problema. E quindi prepariamo la nostra valigie che non ci ordiniamo e prepariamo le nostre valigie così che non saremo lasciati dietro. Soltanto il nostro frutto sarà il segno per la nostra salvezza. voi vi ricordate del tempo di Mosè prima che loro lasciassero Egitto? Quando hanno applicato il sangue l'angelo non è entrato nelle case chiedendo tu sei giudeo o egiziano? No. Ma quando ha visto il sangue è oltrepassato quando gli angeli vedranno il nostro frutto saremo rapiti il nostro frutto come cristiani. E quindi che noi non viviamo la nostra vita come tutti gli altri vivono devi avere questa nella tua mente. anche nella chiesa nella nostra società abbiamo delle piante piantate da Dio lui stesso e abbiamo delle piante piantate dal diavolo e quella tipologia di pianta è velonosa quando vengono raccolte insieme al grano e che ci siano delle differenze e che ci sia un segno di grano e questo sarà visto per via della tipologia del frutto che noi facciamo ci deve essere una possibilità e delle parole che possiamo usare usiamo possiamo usare per fare differenza tra il nostro presente e il passato e il fatto che tu sei stato nella chiesa per tanti anni non ti rende cristiano e il fatto che tu predichi non significa che stai facendo dei frutti il frutto è che vivere la tua vita nella somiglianza del Signore Gesù disse finché il seme non cade e non muore rimane da solo solo un Gesù ma se cade e muore porta tanti frutti tanti Cristo è un privilegio anche a tutti noi che saremmo chiamati figli di Dio e che noi possiamo vivere la nostra vita nella somiglianza di quel seme che è caduto e morto e ti ha fatti nascere per mezzo del loro frutto saranno riconosciuti per mezzo del mio frutto quando vengono giù gli angeli mi riconosceranno e se non ho nessun frutto non mi verranno a chiedere sei nato di nuovo quando era non ci sarà tempo per quella discussione ok frutto o senza frutto senza frutto è di zania tagliatela buttatela nel fuoco ma il frutto radunateli portate il frutto nel mio granaio per il motivo per cui Cristo Gesù è venuto a morire per noi che il Signore possa benedirci e aiutarci nelle nostre debolezze e che noi che abbiamo tutti quanti confessato il Signore Gesù faremo dei frutti nel nome del Signore Gesù possiamo provare a stare in piedi in preghiera prima di pregare portando la bambina davanti al Signore vorrei che tu preghi portando te stesso davanti al Signore forse hai conosciuto il Signore da anni ma non hai nessun frutto da testimoniare chiedi al Signore di aiutarti e che vivrai come una pianta piantata dal Signore lui stesso vivendo facendo tanti frutti preghiamo chiedi al Signore chiedi al Signore e dare a noi che si sembra come in l'Uno grazie Padre grazie Padre grazie 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 tu è la tua volontà che tutti gli uomini siano salvati è per questo che Cristo Gesù è morto per tutti gli uomini Dacci la grazia per prepararci per incontrare il Signore Gesù nella sua venuta Se dovessi mostrarti oggi Che noi non saremo lasciati indietro Prepara la tua chiesa Prepara il tuo popolo Così possiamo vedere la venuta gloriosa del Signore Gesù Cristo Nel nome del Signore Gesù Amen Possiamo per favore dare un applauso al Signore